Il processo all'indipendentismo catalano è entrato nel vivo. Accusa e difesa snocciolano di fronte ai sette giudici del collegio, guidati dal presidente Manuel Marcena, i loro argomenti, costituzione alla mano. Disobbedienza, malversazione, sedizione e ribellione, intesa come sollevazione violenta contro lo Stato. Questi capi d'accusa contestati ai leader indipendentisti da un pool di pubblici ministeri di cui fa parte anche Javier Saragossa, già accusa nei processi contro ETA. L'obiettivo della difesa, spiega, è trasformare in vittime di persecuzioni politiche coloro che hanno seriamente violato l'ordine costituzionale. Vogliono mettere lo Stato in panchina perché ha tentato attraverso le istituzioni di ristabilire l'ordine legale dopo le gravi aggressioni subite, con l'unico strumento accettabile in una società democratica, e cioè l'applicazione della legge. Argomento che contrasta però col carattere non violente dell'azione indipendentista, evidente secondo la difesa. Seconda questione sul piatto, la minaccia all'integrità territoriale, avvenuta secondo l'accusa nel momento della dichiarazione di indipendenza, il 27 ottobre del 2017, ma ritenuta solo simbolica dal fronte indipendentista. Ma a rendere il clima incandescente è la presenza in aula del partito di estrema destra Vox, ammesso tra mille polemiche a partecipare come parte civile. Denunciano una trama golpista, chiedono il riconoscimento del carattere di organizzazione criminale agli indipendentisti e 74 anni di carcere per Junqueras, dunque non solo un gruppo di ribelli. Per la difesa invece, a finire sul banco degli imputati di fronte alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, se ci sarà una condanna, sarà l'intero sistema giuridico spagnolo responsabile, tra le altre cose, di un uso spregiudicato della carcerazione preventiva. In dieci sono ancora in carcere da oltre un anno.